Sotto il diluvio stiamo per mostrarvi una partita estremamente maschia Le squadre non si sono risparmiate e questi sono solo alcuni degli interventi che i 22 giocatori si sono riservati Cuore, muscoli, passione, tante ma tante botte In promozione Girone A, Pietraligure e Borzoli, benvenuti Primo minuto inizia subito la sagra del gol e il primo a mangiare è Daddi La pioggia certo non lo ha aiutato Quindicesimo, proteste da parte della squadra di casa per questo presunto fallo di mano in area Per l'arbitro si gioca Ventitresimo, ancora Pietra in attacco, cross per la testa di Daddi Facile preda di Baldassarre Trentaseiesimo, la pressione del Pietro aumenta, cross per Daddi Arriva Antonelli, fuori, azione incredibile dei padroni di casa Quarantaduesimo, indovinate un po', ancora Pietraligure Espinal fa tutto bene, arriva al tiro che accarezza il palo Si resta sullo 0 a 0 Inizia il secondo tempo ma il canovaccio non cambia Al primo minuto Antonelli arriva il tiro, palo, la palla schizza Arriva Espinal che finalmente riesce a segnare Padroni di casa meritatamente in vantaggio È 1 a 0 Tredicesimo, girata di Daddi Nulla di fatto Tretacinquesimo, il Borzoli non ci sta Serie di serpentine, la palla arriva a Gozzano Sfera alle stelle Un Pietraligure vince, convince e continua la sua scalata verso la vetta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti